Adesso basta, la misura è colma. D'ora in poi raccoglieremo le denunce e faremo causa attraverso Feder Consumatori. A parlare è Giorgio Nana, segretario della Filt CGL di Sondrio, che in una lettera aperta inviata al presidente della regione Maroni e all'amministratore delegato di Trenord Farisè e per conoscenza al prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalie e al presidente della provincia Luca della Bitta, esprime tutta l'esasperazione del personale e non di meno dei viaggiatori per gli innumerevoli disagi che bisogna sopportare quando si sale sul treno, andando incontro a disservizi e ritardi. In un anno una signora che viaggia in treno sulla nostra linea è arrivata al lavoro per ben 56 volte in ritardo. Per il sindacalista, insomma, i dati di Trenord, che parlano di un tasso di puntualità sensibilmente migliorato sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, sarebbero sconfessati dall'amara realtà. Anche giovedì una giornata da dimenticare, un treno soppresso a Milano-Centrale alle 14.20 per un guasto alle porte e due ore di attesa per il successivo ovviamente sovraffollato. Soppressa anche la corrispondente corsa da Sondrio per Milano, causa indisponibilità di materiale rotabile. Preoccupazione viene espressa da Nana anche per la pulizia dei treni e delle stazioni che, afferma, non potrà che peggiorare visti gli appalti al ribasso. Intanto alla stazione di Sondrio da due anni manca l'acqua sui binari. I pulitori non possono riempire le cisterne per i servizi igienici e sono costretti a pulire le carrozze andando a prendere l'acqua con i secchi. L'aggressione della viaggiatrice senza biglietto al capotreno, insomma, fa intendere Nana, è solo l'ultimo episodio di una lunga serie. La telenovela continua, dice, viaggiare in treno per tanti diventa un incubo. Di qui l'appello del sindacalista. La Regione, visto che paga con i nostri soldi Trenord ed RFI, vuole prendere in mano questa situazione vergognosa o essere complice?